Ciao, sono Sabina, ho 42 anni e ho ricevuto la diagnosi solo nel 2020, quindi all'età di 40 anni. Prima della diagnosi ci sono stati anni in cui mi sono sentita sbagliata sin dall'adolescenza. Ho sempre percepito il mio corpo come diviso a metà, non riuscivo a capire da che cosa derivassero i dolori che avevo e che si facevano sempre più forti. Molto spesso non parlavo a nessuno di questo dolore che provavo proprio perché mi sentivo sbagliata. La diagnosi per me ha rappresentato invece una vera e propria rinascita, una liberazione. Dopo lo shock iniziale ho smesso finalmente di sentirmi in colpa, ho iniziato ad amare il mio corpo, ad essere indulgente con me stessa. Mi sono sentita quasi rilassata nei miei panni e ho iniziato poi piano piano a coltivare una dimensione interiore che negli anni precedenti avevo sempre tralasciato, anzi avevo totalmente ignorato. Il 2020 infatti è stato non solo l'anno della diagnosi, ma è stato l'anno della scoperta. Sì, l'anno della scoperta perché ho iniziato a praticare la meditazione, ho incontrato il Kundalini Yoga e di lì il viaggio interiore non si è mai fermato, tanto che oggi ho l'onore di lavorare tra le altre cose nel settore della divulgazione del Kundalini Yoga e ben presto diventerò un insegnante. Man mano che questo viaggio interiore avanzava, man mano che progredivo nel contatto con me stessa, ho riscoperto una grande forza, una forza, un'energia, una sicurezza in me stessa che non credevo di avere e che ho deciso a un certo punto anche di mettere a servizio della divulgazione sull'ipedema. Proprio perché sono consapevole di quanto possa essere difficile oggi per una paziente esporsi, parlare del proprio disagio, parlare della propria malattia e quindi io desidero essere anche un volto e una voce per chi non ce l'ha, per chi non se la sente. Ho deciso di condividere questa mia piccola testimonianza per la Lio nella speranza da un lato di stimolare le persone ad avvicinarsi a una disciplina spirituale o comunque a cercare di riscoprire un luogo interiore proprio perché credo che quella sia la chiave per il proprio benessere psicofisico e dall'altro spingere le altre pazienti a parlare dell'ipedema non perché voi siete la vostra malattia ma cercare quantomeno di non chiudersi come ho fatto io per tanti tanti anni della mia vita ma magari se non ve la sentite di fare divulgazione, di esporvi all'esterno, cercare anche il conforto della vostra famiglia, delle persone che vi vogliono bene, tirare fuori quello che abbiamo dentro è importante, fare divulgazione è importante, anche una sola persona informata dell'esistenza della nostra patologia è veramente oro.